I principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori del loro faringe sono il fumo, l'alcol e l'infezione da HPV. Negli ultimi anni in diversi paesi occidentali la frazione dei tumori associata al fumo e all'alcol è diminuita mentre è aumentata quella causata dall'infezione da HPV. Questo è legato probabilmente ad un aumento dell'esposizione all'infezione orale da HPV quindi a un cambiamento delle abitudini sessuali. La buona notizia è che questi tumori possono essere prevenuti attraverso la vaccinazione contro l'HPV.